Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta al pistacchio e cioccolato bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di pistacchi, uova, crema di pistacchi, burro fuso, cioccolato bianco fuso, lievito, zucchero, sale, amido di mais, amaretto di saronno. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e le uova. Ed azionare i bimbi per otto minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere il cioccolato bianco fuso. Il burro fuso. Ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. Aggiungere la farina di pistacchi, l'amido di mais, la crema di pistacchi, l'amaretto di saronno, il sale e il lievito. Ed azionare il bimbi. Per un minuto a velocità 4. Trasferire il composto in uno stampo da 20 centimetri ben imburrato. Cuocere in forno a preriscaldato statico a 170 gradi per 35-40 minuti circa. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo, decorare e servire. Torta al pistacchio e cioccolato bianco. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!